Sono sereno, sto bene. Magari ero un po' nervoso di mio, eh. Stai bello di fuori, eh. Ha parlato, quella che dà fuoco, alle case. Non sono! Basta! Alle persone non gliene frega niente. Pensano di aver ragione solo perché sono di più. Quelli normali. E ai confini dell'immaginazione, quanto di più sorprendente e delizioso il vostro palato abbia mai assaggiato. E se lo aprissimo veramente? È frighissimo. Ma ti rendi conto di quello che hai messo in piedi? Ce l'abbiamo fatta. E poi hai distrutto tutto. Tutto il cuore! Con tutti i problemi che c'ho, se ci aggiungo anche te... Sono stanca! Sono stanca! Fidrai che piano piano le metto tutto a posto. Adesso il gruppetto di Mati si compatta contro tutti e facciamo squadra. Io sono tutta sbagliata. Tu vai bene così come sei. L'hai detto tu che io sono un problema. Mi mancava un pezzo. Mi è sempre mancato. Questa passaistä su di lavoro. Questo è un problema. Vi riempino che chiama squadra... La continuazione dieka! Questa è un problema. Questa puòcare!